Sono Alessandro Masturzo, sono un industrial designer, vi presento Mark, si tratta di un tavolino che ho pensato sulla base di una commistione tra le peculiarità tattili e visive del Crystal Plant e cercando di reinterpretare quello che è il pensiero progettuale di MDF Italia. Ho disegnato questo tavolino ripercorrendo concettualmente le varie fasi di un processo di stampaggio a iniezione, infatti ha una forma primaria avendo una funzione, è stata estratta una seconda forma in una sorta di sottrazione netta che ha determinato la creazione di un'orma, di una vera e propria orma, di un'impronta, avendo una seconda funzione chiara e riconoscibile. Volevo che il tatto diventasse un filtro epidermico per il raggiungimento dell'emozione attraverso la comprensione dell'oggetto. Volevo che l'omogeneità del materiale, unito a questo suo bianco vellutato, a questo suo bianco magnetico fossero il mezzo per raccontare storie di piani, di linee di raccordo tra livelli funzionali e di convessi che una volta sottratti creano dei concavi aventi delle forme riconoscibili. Arrivare qui a Milano e vedere un oggetto, un'idea, un concept che fino a qualche settimana fa, fino a qualche mese fa era un'idea, era una fantasia, era una riflessione, ha un ritorno per me non indifferente. Soprattutto pensare di poter collaborare con due aziende del calibro di Crystal Plant e di MDF Italia sia veramente una grandissima soddisfazione.